Ciao ragazzi, per un nuovo video, oggi siamo su questo canale bello. Allora, ora diciamo una cosa che è molto bella. Ragazzi, non sto dicendo che non ci vanno più sui di group e non ci vanno sui quiz, ok? Questa cosa ci vuol parlare per forza perché vuoi molto amico un cazzo che ci ricombra, ok? Perfetto, vedi? Un attimo. Un attimo che ci vuole la porta che non mi... Porca non mi lascia sempre male, ma lascia la puttana mia. Ok, accendiamo la luce. Poi sta puttana mi ha fatto male, per colpa nostra. Mamma mia che padre, quando... quando è così mi capo di fare un lungo il culo, mamma mia oh! Allora, ti spiego l'altra volta. Perché il privato? Perché? Allora, il privato è sempre privato. Anche lì il telefono mio è privato, anche il numero di mail è privato. Non si è affatto di rubare, ragazzi. Voi non capighe, 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 non capighe. Non capighe... Porca non... Moriamo. Moriamo. Moriamo, ma ora... Che lo faccio spiegare anche da lui. Perché voi non c'è vero, non c'è vero. Non c'è vero. Non c'è la righe. Non c'è vero. Eccolo. Non faccio vedere il numero. Che lo... Voi verti che venga... O chiamare. Eccolo. Non faccio vedere il numero. Eccolo. Eccolo. Allora... Ma quella... O... Gli lo dici e... Se no... Gli ammazzano le fanno. Ok. Ok. Ciao. Allora. Dopo, quando ha finito l'aventaggio, lo chiamo. Gli faccio una bella video chiamata. E vediamo... Ma... Chi è che dice? Chi è che dice? Chi è che dice? Perché... Allora... Non sto dicendo che io... Vago... Sul quiz. Capite? No? Io... Non vago sul quiz. Pi... 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 Gazzi... Vossa. Capite? Io non vago sul quiz. Io non dicevano che sia il mio boss. Perché voi... Non capite... Che cosa c'è sul quiz. Sul quiz. Sul quiz passa pure... Il Cristo passa. Gesù Cristo. E... Le truppe famose sono là. Ormai. Che c'hanno i soldi. Io non vado là per gli soldi. Non dicevano... Qui... E' la passione mia che faccio con Google. E' la passione che prendi i soldi da mamma. Perché sono maggioreghe. Guarda che cazzo... C'ho anche... C'ho il microfono. C'ho le lucia. C'ho il pc. C'ho il pc. C'ho anche i padri mio. Se volete riconoscere. C'è... Riga... Fa... C'è... C'è... Ma siete poveri. Non c'ha avere manchi i soldi. Ma siete poveri. Non c'ha avere... Non c'ha avere... Non c'ha avere manco... Ma con il cupidlone. C'ha avere... Inocchia. Inocchia. Quello piccolo. Quello piccolo. Io c'ho questo. C'è... C'ho questo. Io non c'ho l'occhia. C'ho questo. C'è... Pam... Chi è? La vita... Ma che cazzo stanno a parlare? C'è... 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 Poi i gommetti che sono a video... C'è... 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 Poi i gommetti che sono a video... C'è... C'è... No ma che io mi metto troppo a dire... Per... C'è... C'è... La parte... Vabbè... C'è... 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 Dove c'è il copyright? Io dico no? Youtube, non voglio incansarmi e non voglio sentire male perché mi blocchi la partita che assolveremo io non è copyright, non è musica non è copyright ok perfetto andiamo avanti perché c'è anche un porto e video e non è ma macchina allora allora va effettare ok perfetto perfetto non allora ancora abbiamo finito appena c'è ancora appena allora ok ok vediamo il rider il rider sanno un apposso sul apposso sanno un apposso, fortuna, fortuna fifa, fifa e il resto a vita sanno bene il l'unico guglione sono io ma non bloccare il cover con la musica però il video c'è ancora online da allora io gli dobbiamo o messaglia per culo o messaglia per culo se un video già non devi ne va il video non devi ne va per forza perché mi staglia per culo mi staglia per culo Cioè io ho fatto la serie di fifa e volo blocchi. Allora c'è proprio fino a me ignota. Cioè faccio ordinariamente. Cioè faccio ordinariamente. Cioè faccio ordinariamente perché non è possibile. Cioè mi stai a piano per culo. Cioè mi stai a piano per culo. Cioè mi stai a piano per culo e dici, e dici allora, ma porco . Cioè e bifo è meglio. Cioè vedi? Dici la bifo, ma io metto le gombe. Io metto le gombe perché voi non capire un cazzo che le gombe. Perché voi non capire un cazzo. Un cazzo. Un cazzo. Allora amate. Allora. Quattro apposta. 10. Allora. Andiamo. Ok. Qua un apposta, no? Qua un apposta, un apposta, un apposta. Un apposta. Meno male perché. Gli ekepi. Gli ekepi. Gli ekepi una volta. Che siamo incurati alle gub. noi, noi due, così, non so chi sanno, niente i gommetti, perfetto, ma non blocca i gommetti, ma io dico no, ma io dico no, ecco perché mi fa tifo il Gub, mi fa vomitare il Gub, ecco perché dico che voi non siete capaci, a me è un cometo, un cometo, un cometo, un cometo perfetto che dica il massimo è bravo a fare video, ma Marco Wills, ma Marco Wills siete capaci da fare, Marco Wills, Marco Wills, Marco Wills, c'è ora lui, è il massimo perché, vabbè, io non parlo, c'è voi sono fatti botte di news che ruppano il cazzo a voi, ruppano il cazzo a voi, ruppano il cazzo, che mi faccio un massimo io, mi faccio un massimo io, ruppano il cazzo a me, io bu, vabbè, io mi faccio un massimo io, ruppano il cazzo a voi, ruppano il cazzo a me, vabbè, 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 non si che se va a... a uno Gub, ruppano il cazzo a me, vabbè, non si che se va, non vedo dei nomi, guarda, guarda lo famoso, guarda... che è? Ma Ciccio è la merda, Ciccio è la merda, posso dirlo, Ciccio è la merda perché vuole solo i soldi, non vuole far solo i soldi lui, io faccio i soldi, faccio i soldi, faccio i soldi, io vorrei fare i soldi, perché non voglio, non voglio che gli fanno che, 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 che è passati, io sono una famiglia che, che, che è passati, ma la famiglia c'è i soldi, no? Io faccio le figlie che dico, e c'ho gruppi più grandissimi da ero, so che, sanno qua, no? Cioè, so che, sanno io, io gioco, non lo faccio veramente, se ci avevo le computer a 10 mila euro, e Ciccio è bene quello, lo sai? Ma voi non lo sapete Ciccio è che cos'è, Ciccio è bene, vuol dire che è un video fake, quello vuol dire. Allora, se sono uomo, non uomo, io sono uomo, guadda, 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 guadda il rub, guadda, faceva lui a cancellare, guadda, guarda, guarda che è perso di merda, guadda, guarda, guarda, pure il coso, e video, video pubblica, anche, e video, anche i numeri, e, come non i numeri,iesen, i numeri, informi, ochешè?? Mi lo viene a piegire? See, 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 cee, Perché io, perchè io e導ro their uomo, i vado ancora fare la locura? C'è, chiamelo, perché? Cioè, è impossibile, è impossibile questa cosa. Perché uno mi ha sempre il nego per il culo. Uno mi ha sempre il nego per il culo. Uno mi ha sempre il nego per il culo. Uno mi ha sempre il nego per il culo. Uno mi ha sempre il nego per il culo. Sì, ma anche qua, guarda, anche qua c'è un po' breve. Guarda, te lo faccio vedere. Guarda, ce la voglio vedere che non so che sanno. Guarda. Allora. Il video è compavolo. Guarda, ok? Vai. Vai. Va bene. Un cazzo! Un cazzo! Perché mi hanno bisogno anche questo? Cioè, io... Cioè, devo continuare a fare i video di là? Cioè, chi ve lo vuoi? Cioè, chi ve lo vuoi? Cioè, guarda, eccolo, eccolo, ecco il video. Eccolo. Io un po'? Cioè, c'è uno solo abisso. Uno solo. Nove viewers. Cioè, c'è il video che sta puttanato qua. C'è sta puttanato. Cioè, io ho messo questo video per farmi ridere la gente e... Guarda, la gente che fa, non vedere i video. Qua non ci stanno a piacere il culo. Non noi, che stavamo in YouTube. È YouTube che fa tifo. Eh? Perché io una volta facevo... Una volta facevo... Una volta facevo 10.000 views. Una volta. Una volta. Una volta. Guarda, il dirubbio stava bene. Guarda, guarda... Guarda... Allora, mi sono fatto... Maga... Maga non sceglieri a far dirubberla. Guarda. Io mi sono fatto... E va solo via. Guarda, guarda qua. Guarda. Ma voi cammini una volta... guarda, guarda... assenza t problèmes Ma voi non capite che cazzo era? Guarda che cazzo abbiamo creato noi? Ma voi non capite un cazzo, guarda. Guarda... Andrà... Allora, fra? Ecco, mi dimmi Massimo. Allora, stavo ricerco. Ma stai live? No, stai video. Allora, lo dici e o io o io, se vuoi. C'è il giro e perché non c'era la c'è la c'è la? C'è il giro e dicono che il canale mi vada su qui e dicono. No. Allora, il tuo canale YouTube rimane aperto e usciranno video. E su Twitch passeranno le live. Ok, ok, va mai. E praticamente così il canale rimane aperto. Ok, io sto dicendo solo che YouTube è morto. perché non mi fa viola. Sto dicendo quello io. Sto dicendo. Ah, ragazzi, voi dovete sostenersi. Sto dicendo. Sto dicendo. Sto dicendo. Sto dicendo. Sto dicendo. No problem. Cioè. Tu cosa potresti dire? Eh? Tu cosa potresti dire? Sto dicendo. Ehm. Ehm. Niente. Ehm. Forse vi posso solo qui cercare di fare live. Però il canale è sempre bello. Esatto. Ehm. Solo per quello. Cioè. 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 No, io facevo un migliore video che facevo. Adesso quanto mi falla? Guarda, te lo faccio sempre soviare che c'è il canale 1, guarda. No, il canale 1 l'ho visto. Ah, ok. Allora, allora, ve lo faccio, ve lo faccio, ve lo faccio, uno, due, quattro, nove, tre, sei. Cioè, dimmi una cosa normale. Noi stiamo facendo quasi 90.000 visualizzazioni. Cioè, allora, dimmi che cazzo devo fare io, cioè dimmi perché è buono ma si? Eh? Quanti iscritti? E qui è oggi aperto. Uno qua lo è. Eh? Cioè, rica, se volete che io passerai i video, iscrivetevi. Cioè, è quello che è il problema. Anche un altro di club che si chiama Flexing, quell'altro, che ci arriva a 10 iscritti se aveva una volta, e poi c'è la migliore. Perché in club fanno sempre video, 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 e poi arrivi un migliore. È giusto? Giusto. Che cosa vuoi dire? Ma io voglio dire solo, ragazzi, sosteneteci e non pensate che noi chiudiamo il canale, perché non sarà questo. No, questo è impossibile. È impossibile. Io... No, io il canale me l'ho fatto grabby e io non chiudo il canale. Cioè, non è rica, non è rica, non è rica proprio. Cioè, non è rica proprio. Che cosa vuoi dire adesso o dopo? No, adesso ancora niente. Ah, ok. Tu vuoi dire qualcosa? No, vero, era subito in cazzatura e anche privato. Che mo' faccio anche una nuova serie, che loro lo hanno, che io faccio la serie e mi piace che altro. E non ciò lo hanno loro. Poi, Massi, sono dimenticato quello che dice una cosa. Ah, chi è vero? Ma che chiudo il canale io. Eh? Mi sa che chiudo il canale? Perché? Boh, non mi piace più, Massi. E poi un'altra cosa, frate, sto fia per culo. Ah, 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 ah. Ma no, mi ha fatto lì al cocco, loro borgacci. Ah, 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 ah. Ma no, stanno giocando. Ma vabbè, stanno giocando lì al cocco. Ma dimmo, sto serio. Ma proprio, cosa è seria? Sta cosa è seria quella che abbiamo parlato fino adesso? Sì, sì, che va a fare un uomo, un uomo al culo. Allora, va a fare. Sì, fa a fare il culo. Bambina, va a fare la piazza. Ciao Manu. Ciao Manu. Ciao Manu. Eh, lo so. Non puoi finirà? Speriamo quest'altra settimana, forse due. Sì. Che dobbiamo fare? Sì. Eh. Allora, dalla cucina vai a andare da dentro. Ancora stanno a rompe? Stanno a rompe la cinta, calcola. Mamma mia. Allora, c'è il cavallo. Vabbè, loro hanno iniziato l'altra settimana, no? Qualcuno? No, i tuoi libani. Eh, allora sì, l'altra settimana hanno iniziato. Vabbè, mi vuole tempo, eh. Scapola. Eh, che forza, calcola. Speriamo l'ombra. Cosa sta, si chiama, e alla sua svolgiana. che c'è sempre l'ombra, che allora si sono lì. Vabbè, tu sei che cosa stanno a rompe? No, non si è attivano iniziato. Ma, come non si è attivano iniziato? Che cosa stanno a rompe? Che cosa stanno? In palazzo. Ah, la facciata deeeh, del palazzo. E perché ho dei finestri nostri? E perchè ho dei finestri nostri? E perché ho dei finestri nostri? E perché ho dei finestri nostri? E non ho fatto il nostro lavoro Oh madre, perché potevano rifare il nuovo? Potevano sorghi da baciare? E calcola, calcola, mamma C'è gente, calcola Allora, appena sono uscita dalla scuola Poi a casa C'era il numero di questi che sono Sotto sotto i finestri che ha la nostra Questi che spumano, io non mi volevo ridurre Ciao, perché mi hanno dormito quasi per niente La notte, non so, non vedete Che culo, eh? Troppo! Mamma, che dita Ma mamma Porta pazienza Io a papà te lascio tutta Vabbè, te saluto mamma Saluto a tutti Ciao, ciao, buonanotte Ciao bello Ciao matti Ciao a papà te lascio tutta io C'è cosa la Non è la non è vero, va bene, allora l'ultima cosa, fra, l'ultima cosa, fra, fra, no, 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 e, a noi 21 uscirà il video di Crash Yoram, eh? Sì, ce l'hai ancora? No, fatelo, ok, fateli, ride, criore, va bene, va bene, il signor smetto era il video in cazzatura, che a noi non c'è un cazzo in noi, e dimmi, lancio la proposta, vai, Alla sera, alle 21, faremo, due ore di live, su Crash Yoram, il ritorno, però, la cosa, se chiede a voi un male, va? Sì, no, 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 Grazie a tutti.